I bagel sono dei panini che mi hanno conquistato una consistenza unica e perfetti dalla colazione alla cena. Oggi vi faccio vedere la mia ricetta. In una ciotola, farina, lievito, lo zucchero scuro, cominciamo ad impastare versando l'acqua a filo. Come si forma l'impasto? Aggiungete il sale, fate assorbire, togliete, lavorate sul piano, formate una palla e adesso mettiamo a lievitare. Dopo la lievitazione, questo è il risultato, ricaviamo dei pezzetti da 60 grammi, facciamo delle palline, realizziamo dei filoncini, arrotoliamoli intorno alla mano in questo modo, ripassiamoli di nuovo sul banco per formare i bagel. Mettiamoli su una teglia foderata con carta da forno leggermente infarinata, facciamo lievitare, nel frattempo facciamo scaldare acqua, sale, bicarbonato, sciroppo d'acero. Una volta lievitati mettiamo i bagel in acqua, due minuti per lato, rigiliamo, scoliamo e mettiamo su teglia foderata con carta da forno. Pennelliamo con l'uovo, se volete con i semi a vostro piacere, adesso la cottura sfornata